È un po' di giornate che stiamo bene anche la scorsa contro l'Atalanta, probabilmente non meritevamo la sconfitta, avevamo fatto vedere che comunque stavamo bene a livello fisico e oggi lo abbiamo dimostrato nuovamente. Proprio a proposito dell'atteggiamento che avete messo in campo la scorsa partita contro l'Atalanta, che è stato un atteggiamento combattivo, bello, che ha fatto sì che recuperaste anche la partita, salvo poi l'ultimo gol all'ultimo momento, ha voluto dire qualcosa a livello mentale, nel crederci di più anche per la partita di oggi? Sicuramente eravamo contenti per la prestazione, ma arrabbiati perché comunque abbiamo portato a casa zero punti. Abituarsi a perdere non è mai bello, infatti oggi abbiamo reagito benissimo, abbiamo sfruttato bene subito il contropiede all'inizio, siamo riusciti a sbloccare subito il risultato, poi è andato tutto più in discesa, però siamo stati bravi a fare il secondo e a non adagiarci, ma a continuare a giocare e cercare di chiudere la partita. Sei tornato al gol anche al Dallara, tra l'altro con un gol bellissimo, però c'è stata una deviazione, è andata autogol? No! Purtroppo è andata autogol, però... Vabbè, è andata così, cercherò di rifarlo dalla prossima partita, dai! Ti chiedo una curiosità, su un calcio d'angolo nel secondo tempo hai parlato con Viviani e poi hai fatto il cross su Viviani che ha provato la botta diretta in porta, cosa ti ha detto Federico? Tiramela che ci provo io! No, avevamo provato durante la settimana uno schema dove sul calcio d'angolo dovevamo andare io e Federico e quella palla sarebbe dovuta essere per Taiterra, solo che Taiterra aveva già fatto gol, lui voleva farglielo fare, abbiamo parlato per dirgli vai fuori aria che cerco di mettertela e tirare al volo, poi vabbè, lui non ha calciato al meglio dei modi ma ci abbiamo provato. Le prossime due partite sono tutte e due in realtà molto alla portata del Bologna, un Empoli che però comunque deve vincere con voi perché è in piena lotta a salvezza e poi c'è il Pescara in casa che è una delle prime retrocesse. Sono due partite in cui si può e si vuole fare bottino pieno? Ah, sono due partite che dobbiamo vincere, non dobbiamo vedere altri risultati se non la vittoria.